Ida Bezzosi, Piede Valenzi, 1885-1964. Per fortuna non hanno ancora rimosso quello che è rimasto, diciamo. La nonna ci voleva un bene dell'anima, con l'autosus, con tanti figli, i nipoti, prendeva dal nato usalato e veniva a farci visita. E per ognuno di noi c'era sempre una buona parola, era sempre un occhio di riguardo. Ciao Ida. Nata a Chianni, trapiantata a Livorno, è stata per tantissimi anni la forza, diciamo, di tutta la parentela, il legame più che altro. Stop.